Fin dal 1997, Peters Farm produce carne di vitello in modo molto rispettoso verso gli animali. I vitelli di Peters Farm vivono in gruppi. L'ambiente naturale si combina con la massima attenzione e cura verso ogni vitello da parte dell'allevatore. I principi fondamentali di Peters Farm sono qualità, benessere animale, rintracciabilità, sicurezza alimentare e trasparezza. La carne di vitello di Peters Farm è sinonimo di qualità, tenerezza e ottimo gusto. Inoltre questa carne di vitello ha una struttura molto fine, ricca di minerali, vitamine e povera di sodio. E carne di vitello, che è anche facilmente digeribile e si può preparare in molti modi. Peters Farm si impegna al meglio nella qualità, nel confezionamento e nell'etichettatura di ciascun prodotto. Naturalmente, acquistando la carne di vitello premium, si avranno anche un servizio e una fornitura di informazioni completi. I vitelli che vivono in un allevamento Peters Farm decidono da soli quando e quanto vogliono mangiare, ruminare e se vogliono stare in piedi, camminare, stendersi, giocare o dormire. Le stalle sono dotate di sufficiente spazio e di illuminazione naturale. Sono appese delle palle da gioco con cui i vitelli possono giocare e lungo le pareti sono state poste delle spazzole sulle quali possono strofinarsi. L'allestimento della stalla favorisce il comportamento di gruppo con un ordine sociale naturale determinato. Ai vitelli viene somministrato latte per vitelli tramite dei distributori. Grazie alla distribuzione di latte con un ciuccio, i vitelli possono soddisfare anche il loro bisogno di succhiare. Il sistema riconosce il vitello grazie a un chip. In questo modo ogni vitello può determinare quando nutrirsi. Oltre al latte di vitello di alta qualità, i vitelli di Peters Farm ricevono anche generose porzioni di muesli multicereale che favorisce il loro istinto di ruminazione e di conseguenza il loro benessere. I vitelli dispongono tutto il giorno di acqua potabile fresca. In questo modo ciascun vitello può determinare il suo bioritmo. Ogni vitello può essere seguito individualmente tramite il computer. Così l'allevatore ha una panoramica completa del ritmo alimentare di ogni singolo vitello. L'allevatore usa questi dati per controllare e garantire la salute dei vitelli. Oltre all'etichettatura sulla confezione prescritta per legge, tutti i prodotti di Peters Farm sono dotati di un codice di fattoria. Sul sito Peters Farm è possibile inserire il codice di fattoria presente sulla confezione, così da ottenere tutte le informazioni sul contadino e sulla sua famiglia. Tali informazioni riguardano tra le altre cose la somministrazione di cibo ai vitelli e spiegazioni sul sistema di allevamento. Tramite il codice QR sulla confezione, le informazioni su Peters Farm sono direttamente accessibili anche con gli smartphone e i tablet. Peters Farm appartiene al Fondry Group. Safety Guard è il sistema di qualità integrato del Fondry Group. Anche Peters Farm utilizza questo sistema di qualità integrato. Safety Guard garantisce la sicurezza alimentare e il benessere animale nell'intera catena di produzione di carne di vitello. Il sistema è strutturato in modo da rispondere alle alte esigenze in materia di sicurezza alimentare degli acquirenti in tutto il mondo. La qualità e la sicurezza alimentare della carne di vitello Peters Farm vengono controllate di continuo. Tutte le materie prime, sia dei nutrienti a base di latte che del muesli multicereale, vengono campionate e controllate con cura. Dopo l'approvazione viene dato il via libera alla produzione, registrazione e archiviazione. Peters Farm lavora con un programma unico di garanzia del DNA. Viene prelevato un campione di DNA per ogni vitello, in modo da rintracciare rapidamente ed esattamente ogni singolo pezzo di carne di vitello, fino alla fattoria e persino fino a ogni singolo vitello. Peters Farm si impegna per una politica trasparente e una comunicazione aperta. Per questo gli interessati hanno la possibilità di conoscere la vita presso Peters Farm. Tramite una visita durante una delle giornate aperte, gli interessati possono vedere con i propri occhi come i vitelli siano trattati con rispetto e curati al meglio. I visitatori vengono portati in giro per l'azienda dall'allevatore. Anche tramite la telecamera Peters Farm Live, che trasmette sul sito web, si può dare subito un'occhiata nelle stalle. Inoltre il sito dispone di ottime ricette a base di carne di vitello e di molte informazioni di base. Peters Farm, la carne di vitello premium più prestigiosa del Fondry Group. Il Fondry Group è un'azienda olandese a conduzione familiare che consegna prodotti sicuri e di alto livello qualitativo. Tipica del Fondry Group è la sua catena di produzione integrata, assistita dai più avanzati sistemi di controllo. Il rispetto per l'uomo, gli animali e l'ambiente è per noi molto importante. Questo è visibile nel logo formato da una mano e da un vitello, che esprimono il rispetto per l'uomo e per l'animale. Il sigillo garantisce qualità e professionalità. Il benessere animale, la pace e la libertà dei vitelli danno come risultato la qualità e l'ottimo gusto buono della carne di vitello Peters Farm. La sicurezza alimentare è garantita al massimo. La trasparenza di Peters Farm offre la possibilità di rintracciare la provenienza dei prodotti fino alla fattoria. La carne di vitello premium di Peters Farm sta diventando sempre più popolare sia tra i pochi internazionali più rinomati che tra i consumatori di tutto il mondo.